L'atletico Ascoli conosce la prima sconfitta in campionato lasciando il passo al Don Mauro Bartolini alla fermana che si prende i tre punti grazie alla rete sul rigore di Bianchimano e al termine di un match dove i padroni di casa recriminano per la mancata concessione di un paio di rigori e per una direzione di gala che ha lasciato a desiderare. Seccardini fa esordire dal primo minuto Maio che va a far coppia con Ciabuschi relegando in panchina Minicucci. In difesa, assente Nonni per infortunio, viene spostato in mezzo Mazzarani inserendo in lungo l'auto sinistro Antoniazzi. Con Traini che viene sacrificato. Nella fermana, il trio d'attacco è formato da Bianchimano, coadjuvato ai lati da Ferretti e Sardo con Romizzi a dirigere l'operazione al centrocampo. Pronti via ed è subito l'atletico ad avere l'occasione del vantaggio. Sono trascorsi appena 20 secondi quando Clerici conclude dall'area piccola ma un difensore gli devia il pallone in angolo. Dal corner, dopo un batte e ribatti, la palla arriva a Ciabuschi che gira verso la porta. Di Stasio si allunga e manda in corner. Al quarto ci prova Ceccarelli dal limite ma la sfera è ancora deviata. La fermana si vede per la prima volta al 24esimo quando Valsecchi batte un corner verso il libero Ferretti che tira. La difesa si salva. Un minuto dopo ci prova Mavro Matis, conclusione che passa vicino al palo di Pompei. Trascorrono due minuti e la partita si sblocca. Sardo riceve palla sulla sinistra, Camilloni non affronta in area e lo stende. Rigore è giallo. Sul dischetto via Bianchimano che con freddezza supera Pompei per l'1-0. Risultato con cui si conclude la prima frazione. La ripresa si apre subito con una protesta locale per un tocco di mano in area canarina ma per l'arbitro si può proseguire. Al sesto Maio si gira e calcia, palla fuori. All'ottavo la fermana ha una doppia occasione per raddoppiare. Fermata in entrambi i casi dal palo. Prima è Ferretti a colpire il legno, poi nella stessa azione Valsecchi ad essere sfortunato. Seccardini fa entrare i minicucci passando al 4-3-1-2 ed è proprio il numero 10 a farsi vedere, girandosi in area. Ma la mira è sbagliata. Si arriva al 31esimo quando Casucci crossa dalla sinistra fornendo un cioccolatino a Bianchimano che però dall'area piccola sbaglia incredibilmente mantando sul fondo. Quattro minuti dopo, seconda protesta bianconera con Maio che si divincola in area ma al momento della battuta cade a terra col pallone che è preda poi di Stasio. Anche in questo caso per il direttore di gara si può proseguire. Al 37esimo il neo entrato Baraboglia sbaglia l'impatto col pallone lasciando un'autostrada a saldo che fugge verso Pompei che però è bravo ad uscire col tempo giusto. Al 40esimo e Cia Busca sfuggire dalla marcatura e calciare, tiro deviato. Vengono concessi sei minuti di recupero in cui si gioca poco e l'unica emozione è il secondo giallo combinato a sardo per una simulazione in area di rigore. Termina così con il successo della Fermana che si rilancia in campionato dopo lo stop contro l'Ancona. Per l'Atletico invece è una sconfitta che non cambia nulla nel percorso intraprese in questa stagione.